Campione di Telenoxi, secondo round, circuito Terramano di Val Vibrata, siamo con Nicola Brusci, un secondo posto in gara 2 e un'altra bella gara in gara 1. A questo punto stiliamo un bilancio decisamente positivo di questo weekend, fino a Bruzzo. Sì, veramente è stato divertente questo weekend, però abbiamo avuto problemi nelle qualifiche. Potevamo fare molto meglio, penso. Un weekend in cui avresti potuto fare meglio, ma che si stava concludendo con una bella vittoria, se non fosse stato per quell'ultimo giro. Che cosa è successo in bagarre? Io non volevo rischiare a sorpassare Fusco, perché questi punti mi servono per lo più per il campionato. Sono convinto che se questa gara fosse stata l'ultima io avrei provato a sorpassare Fusco e se fossi riuscito a concludere il sorpasso avrei chiuso a mettere le ruote nell'erba. Un altro bel podio che fa comunque esperienza ed è comunque conseguenziale alla vittoria nella Coppa di Zona. Sì. Complimenti. Grazie. Ciao.